La pazienza di Teheran ha un limite. L'Iran ha fatto sapere che la sua delegazione tornerà a Vienna per sedersi al tavolo dei negoziati con le maggiori potenze sulla questione nucleare solo per la finalizzazione dell'accordo. Parlando delle questioni ancora in sospeso, gli Stati Uniti non hanno ancora preso una decisione politica, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Naturalmente gli iraniani non possono ignorare i loro diritti e interessi. La nostra nazione è paziente ma non aspetteremo per sempre, per nessuno. Avviati nell'aprile 2021 ma sospesi più volte i negoziati nella capitale austriaca con Cina, Russia, Francia, Regno Unito e Germania mirano a salvare il patto del 2015, scioltosi tre anni dopo con il ritiro unilaterale di Donald Trump. Ritiro che portò al ripristino delle sanzioni statunitensi contro l'Iran. A Vienna, durante gli ultimi negoziati, Washington, che non ha relazioni diplomatiche con Teheran, è stata coinvolta indirettamente tramite la mediazione dell'Unione Europea.